E' ora la premiazione dei supereroi per i valorosi servizi resi alla città e ai suoi abitanti! Otto è un po' invidioso, vorrebbe essere anche lui un supereroe. Il progetto del Robo Puffin è perfetto, ma riuscirà a realizzarlo. I supereroi più divertenti sono tornati in azione! E' il giorno della grande sfida! E i Puffins sono pronti! Che vincano i più forti! Quest'anno vieni a scoprire il superpotere dell'amicizia! Raccontato da Lucilla! Ui ui, che botta! Robo Puffin Dal 13 giugno al cinema Ciao! 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 Ciao!